prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o dio che hai dato al tuo popolo san davide re con il suo aiuto rendici forti e perseveranti nella fede per collaborare assiduamente all'unità della chiesa per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen se ti chiami come il santo di oggi tantissimi auguri e per tutti la benedizione di dio raggiunga voi e le vostre famiglie ciao e a presto